Carissimi amici internisti, sono Ombretta Para, referente nazionale dei giovani Fadoi. Volevo comunicarvi che da oggi sul nostro sito nazionale sarà disponibile una breve guida clinico-pratica sull'infezione da SARS-CoV-2 in italiano, completa di tutta la bibliografia e realizzata in tempi record dal nostro gruppo giovani. Visto il rapido evolversi della pandemia da COVID-19, cercheremo di fornire degli aggiornamenti periodici della guida. Vorremmo infatti che mano a mano che la situazione progredisce, questo documento si arricchisse di nuove segnalazioni, conoscenze, di riferimenti bibliografici attualissimi. Per qualsiasi commento, suggerimento, modifica o se volete partecipare attivamente al gruppo di lavoro, non esitate a contattarmi. In questo momento noi giovani internisti ci sentiamo impegnati in prima linea insieme a tutti gli altri specialisti, con preoccupazione ma anche con quell'entusiasmo e quella passione che ci contraddistinguono da sempre. Buona lettura e buon lavoro a tutti.